È incredibile, ho riconosciuto la sua macchina, vediamo un attimo... SORA LIZZ! SORA LIZZ! SORA LIZZ! GULMONI! 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 SORA LIZZ cosa sta facendo qui? Ah, è venuta a comprare questo computer, perché io ho tanti mariti, non ricordo più! Devo mettere tutto qui, sennò non ricordo! Ma quanti uomini ha avuto nella sua vita, SORA LIZZ? Tanti, tanti, tanti! Ha bisogno di computer per ricordare! Ho capito! Usa... Ma... Ma... Ma guardi quello! Non sta a fregare la macchina! Ha disgraziato! Ma guardate! SORO LIZZ! SORO LIZZ! SORO LIZZ! SORO LIZZ! SORO LIZZ! SORO LIZZ! Ho sbagliato! SORO LIZZ! Ogni tanto esce questo lato romano, io amo tanto Castelli Romani! Io anche canta Castelli Romani! Cintone un pezzettino di... Ma hai sentito? Aricciarola? No! Allora... Aricciaricciari... Aricciarola! SORO LIZZ! SORO LIZZ! Ma lei è romanaccia! No... No! SORO LIZZ! SORO LIZZ! No! S-SORO LIZZ! S-SORO LIZZ! S-SORO LIZZ! Sì, scusate!